Spostare il problema non lo risolve. La decisione di Anas e Comune di Montesilvano di ripristinare il senso unico direzione sud nella galleria I Pianacci, così come avvenne subito dopo l'apertura al traffico della canna sette anni fa, il 20 ottobre del 2009, rischia di creare più disagi di quanti ne risolve. Infatti è facile prevedere un ingorgo di vetture nel quartiere Santa Filomena, la zona al confine tra Pescara e Montesilvano, che maggiormente aveva beneficiato del prolungamento dell'asse attrezzato che oggi termina su Via Vestina. È vero, c'è un grave problema di smog proprio nei pressi del cimitero di Montesilvano e i dati sono allarmanti, ma sarà lo stesso inquinamento che cambierà solo di posto traslandosi a Santa Filomena, quartiere che già sopporta, nonostante l'asse viario a scorrimento veloce, un carico di traffico elevato soprattutto nelle ore di punta del primo mattino e del tardo pomeriggio. Per non parlare poi dei problemi che si creeranno ai pendolari che da Pescara devono muoversi verso nord per raggiungere Montesilvano, città Sant'Angelo e Silvi, zone tra l'altro ad altra concentrazione di grande distribuzione e su cui gravita l'ingresso della 14, per non parlare poi del periodo estivo, quando ci saranno anche i bagnanti. Oggi quindi ci si scontra con errori di programmazione urbanistica del passato che penalizzano residenti ed automobilisti. Probabilmente al posto di pagliativi sarebbe opportuno prendere in considerazione la creazione di una vera e propria mobilità alternativa nell'area metropolitana. Il progetto di filo via sulla strada parco, fermo al palo da anni, potrebbe aiutare, magari affiancato da una metropolitana di superficie su ferro, che colmi l'errore di un asse attrezzato, che non arriva all'ingresso dell'autostrada in marina di città Sant'Angelo e che quindi scarica e concentra tutto il traffico in alcuni punti nevralgici. E in questo senso qualcosa si sta muovendo con la costruzione dei ponti sul Saline. Domani sarà presentato il primo, quello di Villa Carmine. Troppo poco però e forse troppo tardi. Per ridurre lo smog non serve spostarlo o metterlo sotto il tappeto, bisogna combatterlo con politiche serie di mobilità pubblica. Nulla di straordinario, basta copiare da chi su questi temi è molto più avanti dell'Abruzzo.